Il motivo per cui siamo nella cappella del tesoro di San Gennaro all'interno del Duomo di Napoli per parlare di musica è che questa è stata una delle più grandi committenze di musica nel 600 e nel 700. Le scuole di musica sono ferme? Sono ferme con una drammatica situazione, l'aspetto immediato, quello musicale strettamente inteso strumentale, che è un fatto fisico, il fiato, gli arti che si muovono, le dita che si muovono. Nell'istituzione musicale anche qui in Campania dove abbiamo ben quattro conservatori e numerosissimi licei musicali si sta organizzando per lezioni a distanza e lezioni in presenza con le dovute precauzioni. Come portare la musica al pubblico? Questo è un fatto particolarmente per la Campania, per il sud in generale, drammatico perché più della metà dei nostri studenti di musica compongono le bande musicali.